Musica Obiettivo Città oggi vi parla di protezione civile, lo facciamo assieme ad una persona che ha una funzione molto importante per la protezione civile della città di Padova, è il commissario capo della polizia locale della nostra città. Sono dottor Piazza del comune di Padova, lavoro al comando di polizia locale ma da quasi 13 anni seguo la funzione di protezione civile, da un anno a questa parte l'attuale amministrazione ha voluto unire queste due funzioni in un'unica struttura che appunto si chiama settore polizia locale e protezione civile, e quindi per la prima volta le due funzioni di tutela del territorio, una in un'ottica di polizia stradale, pubblica sicurezza, controllo delle varie attività commerciali ed edili che si svolgono nella città per garantire l'ordinato funzionamento della comunità e poi invece la funzione aggiunta che è appunto quella di protezione civile dove interveniamo in situazioni di emergenza prevalentemente per calamità naturali. Per fortuna Padova è una città abbastanza al sicuro perché per motivazioni storico-geologiche siamo un comune a rischio sismico livello 4 che è il più basso, però per le stesse motivazioni per cui siamo abbastanza al sicuro per quanto riguarda i terremoti, siamo invece una città molto a rischio dal punto di vista idrogeologico perché siamo all'incrocio possiamo dire di due fiumi abbastanza capricciosi che è il Brenta e il Bacchiglione. Questo ha comportato una serie di problemi storici che si sono veramente sedimentati nel tempo, se pensiamo che una delle strutture ancora oggi portanti del nostro sistema di salvaguarda idrico è il canale Brentella che è stato costruito dai veneziani a metà del XIV secolo ed è a tutt'oggi in funzione. Ovviamente protezione civile non è soltanto l'intervento dell'emergenza, dietro c'è un lavoro quotidiano, meticoloso, di centinaia di persone fatto di preparazione, informazione, formazione, addestramento, coinvolgimento di altre strutture e altri soggetti. Diciamo che l'organizzazione è fatta a scala, comune, provincia, regione, Stato. Oggi la provincia è una struttura istituzionale in fase di liquidazione però guarda caso proprio la funzione di coordinamento e formazione di protezione civile è una delle pochissime funzioni che della provincia resteranno in vita probabilmente diventeranno circostruzioni regionali ma al di là del cambiamento del nome il lavoro che fanno rimane fondamentale e importante. sempre in quest'ottica con l'attuale amministrazione stiamo realizzando quella che è e sarà la nuova sede di protezione civile molto più grande, molto più all'avanguardia di quella che abbiamo adesso, tutta su un piano terra antisismica in un'area facilmente accessibile che è l'ex foro vario di Corso Australia all'interno della quale potremo finalmente fare quello che noi speriamo in un salto di qualità rispetto alle attività che svolgiamo a tutt'oggi va detto che oltre a tutta questa attività legata alla sicurezza del territorio con l'andare del tempo abbiamo aggiunto, si è venuta aggiungendo un'attività come dire di aiuto alla popolazione nei momenti di maggior rischio oppure di maggior affluenza di pubblico o comunque quando si creano sul territorio spostamenti di massi umane tale da poter creare dei rischi per l'inconominità delle persone che nulla hanno a che vedere con una calamità naturale ma che comunque possono sussistere un esempio di questa attività comunque a servizio della popolazione e alla tutela del territorio però non legata alle calamità naturali l'abbiamo per esempio quando ogni anno partecipiamo alla gestione della maratona e delle varie stracittadine oppure il 15 agosto con i fuochi di ferro agosto che a Padova richiamano a volte anche 80-100 mila persone dipende dalla giornata, dal clima e il resto in quel caso la nostra funzione è quella di presidio, supporto, informazione e a limite dissuasione verbale per esempio nell'ipotesi della maratona convincere, spiegare ai cittadini perché una strada è bloccata in quel momento e perché per ora magari non potranno uscire di casa